Ciao amici benvenuti nel canale commentatore donna. Sarei molto felice se ti piace e condividi il video. Aspettando i tuoi commenti. Resta sintonizzato per le notizie più affidabili e aggiornate. Nilperi Senkaya ha presentato una denuncia penale contro Burak Deniz presso l'ufficio del procuratore capo di Adana a causa della rissa avvenuta il 15 settembre. L'avvocato di Senkaya, Neil Gonenli, ha chiesto che Deniz fosse perseguito per il danneggiamento deliberato, insulto e disturbo della pace e della tranquillità delle persone. Burak Deniz ha pubblicato delle scuse. Tuttavia, Nilperi Senkaya non ha accettato queste scuse e non ha rinunciato alla sua denuncia. Era una questione se una causa sarebbe stata intentata o meno sull'argomento. Si è appreso che Burak Deniz non è andato a testimoniare negli ultimi quattro mesi nonostante fosse stato convocato dalla procura. L'avvocato di Deniz, Serdara Opak, ha anche affermato che il suo cliente non è andato a testimoniare a causa del suo carico di lavoro, che viaggia costantemente nel paese e all'estero. L'avvocato di Nilperi Senkaya, Neil Gonenli, ha chiesto un mandato di arresto per Deniz.